Era incerta la sua ubicazione, quasi fosse una leggenda la città romana di Salapia. Esisteva dal Neolitico, fu rifondata nel primo secolo avanti Cristo. Eccola, questo è il risultato di una prima campagna di scavi effettuata dall'Università di Foggia e dai ricercatori del Davidson College del North Carolina negli Stati Uniti. Siamo nelle campagne di Trinitapoli, nell'area che era quella del Monte di Salpi. Nell'epoca imperiale era un importante centro commerciale. Una città sicuramente vitale, una città che doveva avere strade, doveva avere quartieri artigianali, una città che sicuramente poteva contare su tutto quello che rendeva una città importante. Life on Lagon Salapi Exploration Project, il nome della campagna che presto potrebbe svelare nuovi misteri. Abbiamo non solo recuperato il perimetro, le mura della città, quindi siamo in grado di conoscere l'estensione, l'articolazione interna di questa città romana e grazie alla campagna scavi di quest'anno siamo anche in grado di conoscere una piccola parte, una piccola porzione dei quartieri in cui si articolava la città.